come è andata questa settimana visto che c'è stato qualche acciaccato come sta la squadra in vista di lucca e se ci può dire la formazione gli elementi sono stati fatti benissimo hanno fatto una partita amichevole giovedì che è stato piacevole anche stare a guardarla per per l'applicazione per la voglia per le geometrie hanno fatto veramente molto 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 bene gli elementi sono andati benissimo come al solito i ragazzi hanno sempre spinto al massimo avevamo qualche piccolo problemino in qualche acciacchi ma abbiamo recuperati tutti tutti disponibili e la formazione giocherà plizzari staver brosco per la cani moruzzi squizzato valsania dagasso cangiano tonin e merolo ha detto che gli acciaccati sono tutti recuperati quindi bentivegna vergani e pierozzi è tipo valzania a ferrara quindi difficilmente verranno impiegati oppure se c'è necessità l'unico che cercherò di non di non rischiare ma però è disponibile però bisogna vedere come si mette la partita è a pierozzi anche perché poi abbiamo una settimana tra queste tre partite quindi devo un po gestirli ma poi sia bentivegna che lo stesso vergani sono a disposizione quindi voglio dire non ci sono tipo di problema intanto è un allenamento che non puoi fare solo quando le cose vanno bene altrimenti diventi un oggetto di scherno che a me personalmente non mi dà fastidio essere preso in giro anzi per me è uno stimolo però capisco che i giocatori se fanno una cosa del genere sono una situazione di classifica non bella lo scherno è un motivo in più di perdere la fiducia di perdere l'autostima e quindi questo è stato uno strumento di lavoro ho messo dentro in questo momento perché so che l'autostima è al massimo e so che in questo momento tutti lo vedono come un qualcosa di positivo di giusto ora qui starà a spiegare i motivi della percezione dello spazio oppure che il cervello vede una cosa soltanto diventa una cosa abbastanza lunga che poi io non sono neanche bravo a spiegarvi perché bisognerebbe avere le parole scientifiche e io non ho questa cultura scientifica io ho solo la cultura dell'apprendimento che viene da quello che vedo quello che che può essere giusto ma non ho delle basi scientifiche per potervi dire le cose in maniera corretta e quindi preferisco dirvi è una cosa che serve l'ho vista fare la prima volta quando allenavo il capa il cadania a un pugile malignaggi che era da combattere per il titolo mondiale mi sembra dei super leggeri mi ha incuriosito mi sono documentato e ho capito che anche nel calcio è una cosa che poteva essere fatta io allenavo il catania andai a siracosa perché piero tamburo che era il fisioterapista seguiva anche questo pugile e andai a vedere l'allenamento e vedi che usavano queste bende e poi l'abbiamo usata anche con il catania poi il calcio è un mondo dove se dici una cosa è giusta a secondo di quello che tu rappresenti se tu sei primo qualsiasi cosa che dici va sempre bene se tu non sei primo sarai sempre considerato un asino e quindi ma a me essere considerato primo non mi interessa essere considerato un asino non mi interessa purtroppo vivo in un ambiente in cui i miei giocatori i miei dirigenti possono essere condizionati dal giudizio esterno e quindi è inutile che io faccio la guerra con quelli che io devo poi aiutare a crescere ottenere dei risultati cerco di evitare perché tanto sono battaglie perse e quindi se alleni devi anche capire dove ti trovi e cosa puoi fare però il modo del calcio è strano è come se uno fosse condannato no a condannato a morto oppure all'ergastolo e magari dopo passa del tempo e questo viene riconosciuto innocente e magari lo fanno presidente della repubblica come è successo a Nelson Mandela che l'avevano condannato e dopo è diventato presidente quindi da passare dal criminale a passare quindi voglio dire che questo è il mondo del calcio non il mondo del calcio è la vita è così in base in contesto in cui tu vivi le cose stanno in questo modo ma voi avete visto anche bene che le volte noi abbiamo visto delle partite in cui non riuscivamo a fare delle grandi prestazioni sul possesso palla io penso che le ultime due vittorie 2 a 1 a Ascoli 1 e 0 a Ferrara la squadra abbia dimostrato sul piano del gioco di essere di essere padrona di essere padrona della situazione di essere la squadra che ha tenuto più la palla ha fatto più passaggi abbiamo creato tante palle gol abbiamo rischiato pochissimo perché ci abbiamo lavorato come cerchiamo di lavorare nel cercare di essere più bravi a far gol perché se tu dici a me mi basta un gol secondo me questa è superficialità tu non ti devi mai bastare niente poi se si vince per un gol va bene lo stesso però noi dobbiamo essere bravi a cercare di alzare il nostro livello faccio un esempio banale stupido scegliete voi com'è ho detto ai miei ragazzi ma io sono convinto camarda ha giocato sabato col milan futuro e ha giocato contro gli ignago e hanno perso gli ignago ora non è più ultimo è penultimo lui ha giocato un tempo poi martedì mercoledì quando ha giocato martedì ha debutato in cempio e nel nostro campionato lui è con una squadra che ultima quindi se ce la fa lui che se sicuramente si è giocato vuol dire che il ragazzo è bravo è meritevole ed è giusto che abbia questa possibilità di giocare in cempio non è un demerito questo è un metodo se ce l'ha fatta lui questi del pescara che in questo momento sono primi possono averla anche loro questa fortuna però loro non hanno il pescara in serie a che possa vincere che possa fare la coppa dei campioni quindi loro devono cercare di arrivarci con il pescara in serie a e quindi loro devono lavorare molto di più devono avere molta più fame devono avere molta più applicazione devono sempre molto di più rispetto agli altri e se tu lavori in questa ottica ti migliori stesso discorso noi dello staff se noi dello staff pensiamo perché abbiamo vinto sette partite pareggiate due che siamo bravi perché siamo primi vuol dire che abbiamo cominciato la discesa nel baratro noi dobbiamo sempre cercare di andare a cercare un qualcosa di nuovo e quindi il discorso anche della benda è stata una maniera perché era ancora uno stimolo ancora più positivo alla squadra nella ricerca di migliorare le loro abilità non è stata però come ti ho detto io lo so la conoscevo da tanti anni questo strumento ma bisogna sempre metterlo dentro nel momento in cui veramente serve altrimenti poi non non ha nessuna efficacia mister lei di solito non parla mai della squadra avversaria dal punto di vista tecnico esatto però do do un dato le chiedo se preoccupante se la fa riflettere se non deve permettere di abbassare la tensione la lucchese non ha mai vinto in casa il pescara ha sempre vinto in trasferta tu mi fai un discorso che da giornalista lo capisco lo capisco dal tuo punto di vista un discorso giusto ma io come allenatore se vado a vedere queste cose e allora c'è anche gattinieri fuori qua fuori dall'albergo c'è gattinieri che invece per me sono la fortuna perché l'ultima volta che ho avuto i gattinieri con il palermo siamo andati in serie b quindi appena l'ho visti ho detto guarda i miei amici anche questa volta andrà così nel giorno della presentazione in cui avevamo un giorno abbastanza critico perché il direttore si era diverso quindi ti puoi immaginare dal tuo punto di vista ti capisco ma io sono cose che non ci ragiono io devo andare a ragionare sulle cose che posso fare alla mia squadra se pensi a queste cose qui allora metto il piede destro il piede sinistro faccio le corna allora vuol dire legare la vita solamente a delle casualità poi è bello è bello anche avere le superstizioni perché è un modo da esprimere no ma io non la intendevo come superstizione come dato statistico la gente del sud è molto superstiziosa quindi è una cosa molto radicata io lo faccio se so che poi dopo mi posso fare due risate con quelli che sono con me allora faccio finta di essere superstizioso però parlando professionalmente proprio non mi interessa ma non perché perché non mi dice niente io devo stare attento alla partita ma non perché la lucchesi non ha mai vinto e noi amici abbiamo sempre vinto perché ogni partita ha una storia ogni partita quando l'hai giocata sai se è stata facile se è stata difficile se è stata abbordabile se è stata tosta quali sono gli episodi che poi determinano le vittorie oppure le sconfitte noi bisogna pensare al contenuto della gara se pensiamo al folklore allora che ti voglio dire non fa parte di questo Pescara altrimenti non saremo lì un mese fa se non erro ha fatto debuttare in questa stagione da titolare Davide Merola all'Adriatico più o meno credo sia passato un mese da quel Davide Merola a questo Davide Merola quanto miglioramento c'è stato dal punto di vista fisico? Molto perché lui ha preso più continuità durante la partita infatti anche quando è entrato a Ferrara ha dimostrato di essere già dentro la partita perché in fase di non possesso lui è stato utile alla squadra perché poi quando ha la palla Merola può essere sempre utile sia che sta bene che sta male ha sempre un colpo geniale che può mettere un compagno oppure lui può creare difficoltà agli avversari ma può mettere sempre un compagno nelle condizioni di far gol in fase di non possesso doveva migliorare e il ragazzo ha fatto passi da giganti da questo punto di vista veramente bravo l'unica cosa è che vado vicino casa quindi vado vicino alla mia gente vado vicino alle mie radici quindi mi fa piacere ma quando sarò lì penserò solamente al Pescara penserò solamente a tutte queste cose poi non mi posso neanche fermare perché dobbiamo subito ritornare indietro perché abbiamo la partita di mercoledì quindi vedrò sicuramente tanti amici che mi vengono a trovare mi venneranno ad abbracciare a darmi il loro affetto e vedrò le persone mie più cari e i miei familiari questo è un altro discorso non è parlare di lucchese è parlare su un terreno di gioco che può sicuramente falsare determinate giocate quindi sarà da essere bravi a capire che certe giocate non si possono fare perché diventano rischiose più se il campo è molto pesante e molto... come ti voglio dire? e se ci dobbiamo giocare in un pantano non è che possiamo giocare a fare il fraseggio insomma cercheremo delle soluzioni diverse bisogna essere intelligenti ma c'è per tutte e due le squadre quindi l'importante è essere mentalmente pronti a sapere quello che ti capita ho due curiosità una ancora su un paio di giocatori del Pescara perché volevo capire effettivamente quanta autonomia aveva Edoardo Vergani visto che dopo il colpo se non ero all'inizio che ha preso contro la SPAL si è sempre allenato a parte adesso non so oggi la rifinitura ma si è sempre... si l'ha fatta con noi perfetto quanta autonomia potrebbe avere dal punto di vista strettamente fisico? se lo volessi far giocare puoi giocare un'ora e mezza a Vergani ah ok quindi diciamo completamente recuperato sia lui come Ventivegna l'unico che ti ho detto Pierozzi ok potrebbe giocare anche Pierozzi dall'inizio ma siccome questo ragazzo quando è già successo anche con la SPAL quando è uscito che ha avuto questo piccolo risentimento poi la cosa pur non essendoci niente di grave però ci ha rimesso un pochino prima di ritrovare la condizione e quindi con lui andrei più cauto solo per questo motivo altrimenti lo potrei far giocare ok e l'altra perché poco fa c'è stato l'ultimo saluto a Vincenzo Marinelli quindi non so se voleva mandare un messaggio sì io più di fare le condolianze alla famiglia non credo che possa dire ho avuto la fortuna che questo signore prima di andarsene proprio un mese fa si è fatto accompagnare lì dove ci alleniamo a Silvi non è sceso neanche di macchina perché non stava tanto bene si è fatto accompagnare mi ha fatto tantissimi complimenti è stato simpatico perché mi ha detto guardi mister a me del gioco non me ne interessa mi interessa che vincere Pescara deve vincere io ho detto presidente ma non è così il percorso conta lascia stare vinciamo che poi il gioco e quindi è stato molto simpatico nel dire queste cose il fatto che essendo in condizioni di salute non buone perché poi se ne è andato abbia voluto venire a conoscermi e a darmi il suo saluto a darmi il suo sostegno anzi mi aveva anche invitato appena si sarebbe ripreso che avremmo fatto una cena e quindi mi dispiace che questa cena non sia venuta però ecco al di là delle condoglianze che la famiglia è giusto dare e mando a questo signore che stasera è andato è andato oltre l'orizzonte gli mando un caloroso abbraccio perché a questo orizzonte lui possa trovare altri scenari come il suo Pescara che gli possono dare questa soddisfazione e però mi auguro anche da credente che lui ci possa vedere e possa gioire anche dal di là delle nostre soddisfazioni delle nostre vittorie grazie a tutti Grazie a tutti.